Il tutto è sbagliato ed è tutto da rifare, non fa bene certamente al nostro paese, è un atteggiamento distruttivo e invece bisogna che tutto si rivolga ad un atteggiamento costruttivo. I D'Alema, i Berzani che cosa stanno facendo di bene per il proprio paese in questo momento? E i 5 Stelle che cosa stanno facendo oltre a criticare, criticare, criticare per criticare? Non ci sono delle proposte risolutive e costruttive, ci sono soltanto degli attacchi continui. Basta, amici miei, che esploda durante l'estate un momento di serenità e un momento in cui tutti capiscono che l'individualismo non paga e che l'unione farebbe la forza di questo paese, l'unione tutti insieme per il bene di questo paese. È un sogno? Eh, lasciatemi almeno sognare, amici miei, e spero che i sogni non muoiano all'alba. Grazie. Grazie. Grazie.